Sono innamorata delle biblioteche fin da quando sono bambina perché ero proprio affascinata prima dal luogo ma quello che leggevo si sublimava in una maniera tale che c'era come una sorta di magia Questo posto lo pensavo veramente perfetto per questo è talmente affascinante ed è veramente risalta in una maniera incredibile tutte le iridescenze le iridescenze veramente qui si vedono perfettamente Questa cattedrale Hertford Cathedral è molto particolare perché ci sono queste catene antiche che racchiudono questi bellissimi manoscritti Mi ha affascinato il fatto che qualcosa di così austero poteva trasformarsi in qualcosa di lieve e più spirituale Di conseguenza ho cominciato a dipingere con dei colori molto particolari gai eccetera e l'ho trasformata Da molti molti anni io dipingo con l'organza ho preso delle lezioni in Francia da una signora per cui andavo a bottega tutti i giorni e lì ho imparato delle tecniche molto diverse con degli acquarelli speciali Dopodiché ho cercato qualcosa di diverso e mi sono trovata meglio con la seta sempre ma l'organza mi dà degli effetti veramente impensati quando anche metto insomma degli pigmenti sull'organza non so mai quello che magari ho un'idea in testa che non viene mai eseguita perché riesco a fare attraverso anche le fosforescenze qualcosa che diventa completamente diverso da quello che pensavo è proprio un'idea in testa che è il passato che è il passato ... Grazie a tutti.